C'è comunque, ho fatto una doccia completamente, con i capelli perché li ho già lavati stamattina e poi è un casino. Amici, abbiamo ascoltato una canzone che mi ricorda molto lo stile che ha il ragazzo che fa l'attore di Wally West nell'Hurroverse, che lui fa anche il cantante, mi ha ricordato quel genere lì, ma non mi ricordo come si chiama il genere. Però... ma... Ma 52 month! 52 month! È una pace di Mortau da 6 giga e mezzo. Grazie, Giorgia! Sempre. Grazie, Mizzica! Vedete la luce di Ezzarca, tra un po' verrai inglobato dall'oscurità. Mortau lo disinstallo. Eh, sarà meno luce, ci sarà. Mortau lo disinstallo, adesso ho chiedito che ci sono 6 giga di patch. Ehm... vabbè, dai, allora lo disinstallo un'altra volta. Buonasera, buonasera. Sto cercando... Grazie, Svapo! Nuova sub, grazie mille. Grazie, Svapo, e grazie, Giorgia, e grazie anche a Mekira prima. Ah, e Mekira davanti al pre-live. Amici, siamo proprio di Lassati. Pace di Certo is here! Oggi c'è stata una live per Isshan. Mi stai imitando? Però non è il cuscino io. Hanno aggiunto un'arma nuova? Tra l'altro ho visto che c'era il signor Max in chat, Monca Giga. L'ho visto che mi metteva le sue piccole cose. Omega... ricola... Marco, ma sei particolarmente muscoloso o sbaglio? Certo. Scusate, ho aggiunto un po', sono delle armi e basta. Eh, 6 giga di armi, però, eh. Added Italian Armet, un'armatura italiana. Eh? Un'armatura italiana, l'ho aggiunto. Cos'è? Eh, sarà con lo stile italiano che ne so. Come si chiama? Mettono anche il... Italian Rapier e Decorrenti d'Italian Rapier Skins. Ma non c'erano gli italiani nel Medioevo? Ecco. Eh, effettivamente cosa? C'erano gli italiani nel Medioevo? E' attratto dal titolo. Sì, me l'ha fatto tornare in mente lui, questo gioco. Sì. Che è il gioco dei nani, con le mani... Nane. Prendono il piccone e lo spaccano sul... Lano. No, ok. Vabbè, no, non era, però... Così, inventiamo... Ma questa è Sparta! No, è troppa luce. La parola sempre è... Ma... Ma che cazzo fai stasera? Ma sei drogato, sei? E sono stanco, in realtà, amore, un casino. Eh, stai fermo, stai. Stai fermo, va. Che mi... Fai male nel cervello, dentro, proprio. Che fai? Sveglia? Eh, devo star tranquillo. Apri il gioco, veloce. Apri il gioco, veloce. Sono già dentro, ti invito subito. Come si fa? C. Aspettate che adesso vedrete questo, poi vedrete questo, poi... Tanto, 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 tanti... Titi, tititi, tititi... Titi, tititi, tititi... Ho abbassato il volume, sento questa birra... Allora, questo qui è un gioco... Che noi portammo... Ma tanto tempo fa. Non era il Day One, abbiamo portato tipo... Uno o due mesi dopo che era uscito. Sì, poco dopo il Day One. E ricordatevi che c'è l'italiano, dovete segnarlo, eh, se volete. Eh? C'è l'italiano, c'è la lingua italiana, la devi cambiare dal menu. Sì, ho già messo. Dal menu, torno. Ho già messo, ho già messo. Dal menu. E l'avevamo, ce l'ha provato i tempi, però... All'inizio era un pochino scarno di roba. Adesso... Ne hanno messa un botto. Ma siamo sicuri di mettere come prima. Adesso non lo so, e se poi non è vero... Ma io ho il personaggio, riprendo... ...e gli cago sulla chat. Elpok, grazie mille. Otto nani. Ah no, erano sette, vabbè. Ma noi ne mettiamo otto. Otto nani. Marco, entera, dai. Hanno alzato il volume, però è abbassato la sensibilità, dopo la schifo. Infatti l'ho alzata la sensibilità. Marco dove? Marco di qua. Io volevo bere la birra. Ma che schifo, poco. Ma che barba di minchia, in realtà. Io sono tonno in versione gnoma. Allora, eravamo un artigliere, un esploratore e un ingegnere. Io ero un ingegnere, no? No, tu sei l'esploratore. Marco, non iniziare a calciare i barili. Faccio un casino. Ma nuro, grazie, cianuro. Grazie, cianuro. Ma non lo so, in bocca non lo vorrei, cianuro. Ma mi spizzica l'audio. No, anche se con le mandorle, mi sono vicini. Dieci punti. Previso. Allora. Mamma mia, ho chiesto. Ho chiesto, ho chiesto, ho chiesto, ho chiesto, quindi non vedo se... Quaranta. Ti fa male, ti va? Perché non sto riavviando il PC da stamattina e quando tengo aperto l'elgato per un sacco di tempo, poi mi si fotte tutto il PC. Vorrei sempre dare un'altra avviatina. Non c'era. Ti stavo rocettando il contatore, tanto. Allora. Adesso hanno messo... Marco, con la calma, che fretta che mi metti. Io che tu ho fatto? Vai, dai. Ho lo dito, no? Io ho detto, vai, vai. Di cyberpunk regalano 4 giga di materiale su BOG. Di cyberpunk. Che porti? Tipo artwork, su un desktop, cose strane. 4 giga di roba. A proprio di cyberpunk domani alle 18? Beh. Alle 18 c'è la conferenza, quindi la vediamo insieme quella, eh? Quella sa. Io ho visto anche quella degli Avengers prima, poi ne parleremo. Le pirre si possono fare... Adesso, questa ormai me la devo. E noi abbiamo ricominciato questo gioco per questo. Per bere, certo. Allora, adesso ho bevuto la birra. Te la spacco nella testa, Marco. Allora, le birre adesso bisogna potenziare il birraio qui. Grazie dei Kicks. Tu, Marco? Stavo giocando, scusami, le cazate. Dimmi. Bisogna potenziare qui il mostro birraio, che poi dopo ci dà le birre che ci potenziano. Ci danno gli effetti bounce. Grazie dei Kicks, comunque. Non capi? Sì, possiamo potenziarlo. Poi dopo c'è qua, c'è il classico Jukebox con musica free, copyright. Vai, vai, balliamo! Noi ragazzi, meglio essere femminiore che tu sei danceri. Ma... Ma ce l'ha spento dietro. Ma... Ma le avevano aggiunte, non c'erano queste? Sì, sì. Adesso, magari qualcosa ne hanno aggiunto, ma questa c'era. Bellissima! È sbagliatissimo questo ballo. A posto. Comunque, possiamo... Grazie, Dupà! Grazie, Dupà! Cosa bisogna fare in questo gioco? Siamo dei nani e come tali dobbiamo minare le cose. Quindi la miniamo un oro? Ce la miniamo. Ma io in realtà ho attivato una... Qui, un incarico. Non so se lo dovete fare anche voi. Dove? Ehm, seguimi. Facci vedere alle persone cosa è che bisogna fare. Certo, però vedo solo gli azzar adesso. Ehm, sono qua io. Eccoti. Prego. Attenuto che ti cade la birra, eh. Qua c'è l'incarico. Hmm, interessante. Quale hai preso, tu? Il primo, quello... Aggiornamento licenza? Esatto. Ehm, accetta incarico. Bene. Quale? Aggiornamento licenza, sì. Il primo, licenza, voltaica, stupi. Dove vai, Marco? Dove vai? Non si andava di qua? Io mi ricordo che andavamo con l'astronave. Ma fare, cosa devi fare? Non so cosa devi fare io. La partita bisognava farla partire. Certo. Ma qua c'era il negozio. Poi qua c'è le modifiche per il drone. Che il drone mi sa proprio non c'era quando giocavamo. No, il drone non me lo ricordo io effettivamente. C'è sto dronino che ci segue. Ah no, è quello delle risorse? No, quello lì era quello per terra dove metti dentro le robe. Questo è un drone che vola e ci aiuta anche. E spara pure. Quindi se volete potenziarlo lo fate da qui. Proietti ad alta velocità. Reanimazione extra, mi piace. Esperto a distrazioni, razzi, quello che fa i tiktok. E un club truck. No, però non parla. Eh, la luce però... Skin per arma, gelo abissale. Aspetta ma ho un sacco di soldi. Bella. Prova a giornarla chat. Prova a giornarla pagina. Ma durpa. Rastinger mettiamo a... Skin per arma, gelo abissale. Sì, anche me l'ha attivata perché ho attivato l'occhio di gelo. Possiamo potenzare tutto, mi sa. No, ho ciò che... Serve solo una cosa per riga. Ah, in quel senso, ok. Io ho fatto l'aminazione. Potete sbloccarle tutte ma poi dovete metterne una per riga. Esperto a distrazione, io faccio l'estrazione. No, ma scusa, il primo no. Il primo le mette tutte. No, però la selezioni. Ah, ok. La te le puoi sbloccare tutte, poi selezioni quella che ti serve. Eh, cosa potrebbe essere utile? La rianimazione extra? L'esperto di estrazione? La rianimazione ci rianimiamo tra di noi. Non penso serva. Pogliettili ad alta velocità. Allora, io faccio quello per minare, allora. Esperto di estrazione. Almeno ta, mini. Eh certo, sono l'esploratore. Poi metto razzi che fa pipi. Io faccio tutto i razzi. Piri, 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 piri. Poi qua mettiamo... Temi tu la morte? No, non posso fare tutto. C'è una possibilità che i nemici scappino all'esplosione dei razzi. Ma non me ne frega niente. Eh no, ma questa qua è una merda, scusa. Non ho capito. Maggiore possibilità che i coppi di razzi... Non tu mi non lo darò una cura. Stendo che abbiano sbagliato a tradurre. No, io lascio il primo. Magari li fai scappare perché... Ah, proprio scappino. Lascio il primo, lascio il primo. Eh, bronchenolo, grazie bronchenolo. Grazie bronchenolo. Grazie bronchenolo. Però ci sono un sacco di roba che ancora non abbiamo sblocato. Ci sono tipo altri miei amici. Quale armi, Marco? Le armi, le caratteristiche del... Qui c'è il tuo equipaggiamento. E per ogni cosa, poi, come il drone, puoi aumentarti le cose. Io tra un livello posso modificare ancora le situe. Ma io avevo le torrette, ma non le avevo mai potenziate. Perché non si poteva. Ma potenziare questa roba è sì, si poteva. Ah, forse non aveva. Non lo so, perché non mi risulta che non ho zero potenziamenti. Ma strano. Interessante. Due torrette diverse alla volta. Questo non mi piace, ma già si poteva farlo. Ok, amici. Boncas. Questa va bene. Allora, fammi prendere in giro. No, no. Questa è il fucile lancia... Lancia... Bacchetti. Gassi, Roberta! Ha visto io il League of Pokemon? Sì, abbiamo visto il League of Pokemon. L'abbiamo visto in diretta. Però io sto usando questo. Non c'è bisogno. Ma le altre cose a destra sono nell'equipaggiamento, ragazzi, no? Sono in sostitutive. No, a sinistra e a destra. È tutto quello che c'è a mosso. Io non mi ricordavo di averle quelle... Aspetta. Grazie, Robby. La granata adesiva. Oh, ma sembra che alcune armi non avevo potenziato niente. Mi sembra molto strano. Abbiamo giocato un po' del cazzo anche noi, eh, comunque. Ai tempi, probabilmente. Poi si sa, con Esperit era tutto... Mamma mia. Che schifo. Il foro a Esperit. Non ho potuto dissarlo un po'. Magari spunta fuori in chat, che mi manca. Maggiore allungamento del pene. Io farei questo, a sto punto. Ah, l'armatura. Cacchio. Tema di espulsione ad alta velocità... Verricello sovraccaricato. Una notazione più veloce del gancio significa un nano più veloce. Sopravvivenza non garantita. Anche qua, come al solito, una sola da scegliere, immagino. Sì, sì, è come il filtrone. Va bene così per il momento. Adesso stiamo valutando. Tanto oggi è quasi un po' una bottevia di questo gioco. In realtà è per valutare poi se magari... Può ficcare anche in live la mattina. Volendo, magari possiamo fare... No, ti metti. Amici, vogliono giocare, dai. Dai, ci sei gli zarrani. Sì, credo che sì. E dopo qua c'è... No, aspetta, c'è l'abilità passiva. Eh, ma io non ce le ho. No, è vero, ho vuoto. Dopo qua c'è per personalizzare il piccone, ma non serve un cacchio. Anche qui per poi il guardaroba, ma... C'è roba estetica, lì c'è il negozio roba estetica. Ma andiamo, dove siamo? Sì, andiamo qua lì. Qui c'è il... War table, come abbiamo fatto. Dove dare prima sul coso degli Avengers. Bravo. Qui! Dobbiamo andare nelle caverne cristalline, perché la missione... Non ci si abbassava, perché siamo piccolini. Ok, la missione delle... Castle, grazie a questa roba prima. Grazie, Castle. Ma non si entrava... Io mi ricordo solo che si entravamo qua e basta, non mi ricordo niente. No, c'è il tablet qui, Marco. Se te clicchi, c'è tutto il mondo con le varie cose. Era tutto... Non c'era tutta sta mappa. No, è vero. Però c'è quello sopra, dobbiamo fare... Marco lì, Gli Ezzar qua. Grazie anche a Mino Jordan. Grazie Jordan. Grazie per il mese, vento l'altro. Host solo amici, sì. Non abbiamo granche robe. Passo rischio, stimolante, rischioso estremo. Facciamo stimolante. Bravo, che vai come mia mamma col telefono. Così. Adesso. Non vai più, perché ogni tanto non funziona il link, riprovate tra qualche minuto. No, se no funziona il link. Dovete aprirlo da... Ah, sì, sì. Se siete da telefono, non apritelo con il coso di... Di Twitch, col browser che ti manda su Twitch, ma copiate il link e incollatelo sul browser, su Chrome. Esatto. Perché se no funziona del cacchio, purtroppo, non si sa. Non era così una volta, eh? No, neanche l'arrivo così. Non era così. Allora. Black, non l'ho capito. Sì, siamo noi. Eh, ma che non so. Non so. Eh, però ha il caricamento. Ah no, il caricamento. Così sa il livello. Eh, qua ti dicevo. Allora, dobbiamo raccogliere sette arpa. Qua no? Se devo abbassare, ditemelo, ragazzi. Siamo a minuti, l'oltre. È caduto un pezzo. Allora, ho già. Già che non si può mirare. Allora, dobbiamo raccogliere sette arpa, quark e venti funghi bolo. Come facevamo a vedere i funghi bolo? Allora, è andato via il... Allora, come si... Allora, quel clip di destro, sì. Allora, questo è un arquark. Aspetta, ma c'è già gente, ragazzi. Come siate andati voi? Eh, ma il più di gente sopra c'era un arquark da prendere già. Un botto in tuta già. Ora arrivo. I cadaveri del cacchio. Aspetta, dove era? Accogli. Allora, come si chiama il robottino con... Era claptrap. Con la X. No, X mi cadono le cose. Con la C, con la V, con la F. No, con la F, la C, la luce. Prova gli F1, eh, tipo F1. No, no, aspetta. Ci sarà scritto. Ah, ok, ok. Siamo partiti malissimo. Ma cos'è questa? Costruisci. Eh, amici, se io faccio questa roba... Me l'ha dato retta questa. Ah, sì. Yadda, mi fai un... Eh, niente. Sono andato giù. Allora, aspetta, andiamo giù. Abbasserei un pochettino. Qui c'è un fungobollo anche. Come si chiama il robottino? Uh, no, ma come cambia questo? Eh. Ho lanciato questo. No. Questa è una granata adesiva, credo l'oro. Non è possibile che continuino ad arrivare questi stronzi. Ancora non mi ricordo come merda si chiama. Non abbiamo più le memorie, ragazzi. Come era per fare le cose piccole? Ecco, ok. Era F. R. Questa è un'altra granata adesiva, porca puttana. Con lo C9, infatti anche io mi ricordavo C, ma non... Ma forse non si può ancora. No, richiama Sentinella. Tieni premuto R. Ah, no, era la torreta. Ah, è vero che tu sai chiama le torrette, sì. Ma perché effettivamente non c'ho... Mi hanno sbagliato qualcosa. Questo qui. Dove me lo metto? Molto bene. Arrivo qua sopra io. Vado qua. Faccio questo, guarda. Infatti non bisognava ritrovarlo il robottino prima? Io non mi ricordo, ragazzi. No. Senta molto sincera. Questa è della Sipra. Questo me lo porto dietro, si sa mai. Il funghetto. Del Nitra. Matri. Forse l'arco è quello lì, semplicemente. Aspetta, eh. C per chiamare il mule. Aspettate. Tirato? Ecco. Ah, no, questo è Rai. Bastale, ma lì con la pallina. Scusa, io ho fatto C. Eh, ma non ci abbiamo... C'è un problema. A parte che io ho raccolto anche un fungo. Anch'io l'ho raccolto. Guarda, i funghi sono questi qua. Poi c'è la base difensiva, però. Lo raccolgo. È una missione senza robottino. C'è la trivella al centro? Ah, infatti c'è la trivella qua. Ma che cacchio, era così grossa, scusate. Deposita. Allora, ah, ok. Va bene. Ok, ci sono anche la missione senza robottino. Ero un attimo spaisante. Abbiamo il pompa. C'è, io c'ho il pompa. Ecco, perché arrivavano tutti gli nemici così. Condatta? Eh, sì, arriva lo swarm. No, devo arrivare a mettere dentro questo io. Esplodi. Un attimo, se non ci capivo un cazzo. Non ricordavo bello scleroso, come colori e tutto. Questo è grosso, questo ciocca. Ok, dobbiamo far fuori lo swarm e poi riprendiamo a cercare le cose. Fa pochissimo un po' conto. Ma non fa niente. Sarga, sarga mezza. Tanti capetti, tanti capetti, grazie. Che ne ho arrivato, grazie mille. Grazie mille. Sono quei grossi maiali. Ma non viviamo tuttissimo o va? Eh, perché nel culo si va a colpirli a questi. Ah, eldo perché. Allora, veramente facendo caccare. Sparare. Allora, io devo solo guardare di aumentare le F.O.B se c'è. Sì, sarebbe carino, sai. Ma costruiscile queste torrette, foro portasi. Sarebbe carino aumentare le F.O.B. Io non l'avevo piazzata lì. Eh, invece. Opzioni. Grafica. Grafica. Dov'è il FOV? Qualità generale, scala risoluzione. Posso usare effetti. Distanza visuale, anche bordie. Dov'è? Ultra metto. Ma cosa bisogna trovare? Ma no, bisogna trovare i funghi e la cosa. Iu, forse. Allungire ombelicale, grazie, allungire. Campo visivo su gameplay, Marco. Campo visivo. Dungo, ho preso un fungo. Eh, comunque. Ok. E il fungo poi, dopo quando li depositi, te li conta. Oh, un po' di salute, è vero. Sparando al signore d'ingegnere. Trovate i cosi rossi per la salute. Sì. Poi, anche la nitra ci dà, è per chiamare poi il... il refill. Dobbiamo trovare... l'acquark. L'altro cazzo, qui non abbiamo neanche il... L'altro fungo. Lì c'è qualcosa, eh. Ho lanciato la granata. Eh, dove si vedono le cose azzurre, c'è l'acquark. Un ologramma che balla. Ma l'ho messo io. Trovate a premere l'acquark. Sono le moto, sono. Vedete qua? Guarda come l'ho criogeni. Non è la criogeni. Guarda, Marco. Eh? Qui sopra, dove c'è... vedi, c'è dell'azzurro. Sì. Eh, lì sicuro c'è l'acquark. Ah, ma per segnalare l'hanno messo. Allora, aspetta. Liezer, se mi fai la piattaforma, io vado lì col rampino. Ma ci si arriva, tra l'altro qua, eh. Però ce ne sono altri. No, ho sbagliato io. Ho fatto una cacata. Però vabbè qua, se arriva easy. Se non mi blocco, se arriva easy. Ok. Questo l'ho trovato. E io vado a cercare i fuge. Lo vado a portare. Ce ne sono altri, dite qua? Eh, no, lì non credo. Lì ho preso questo. Ce n'è uno più in alto, Marco. Vediamo un bollo. Ma queste gente! Eh, non lo avete voi letteralmente. Ah, il presionetto. Eh, sono contento vi sia piaciuto, ragazzi. Meno male, meno male. Non era male come gioco. Allora, questi giochi qui a me piacciono un po' farmerini. Però sono quei giochi veramente... Un po' un casino di HUD, però è... Eh, ma secondo me è d'abituale. A parte che ho visto che comunque... Può... Sì, c'era la cosa da... Eh, come si faceva? Eh, beh, devi berla... Io ce l'ho al massimo. Deve berna abbastanza. Quale la devi depositare, Marco? Ho trovato del lievito, forse. Eh, quando ci fai la birra? E se vi fanno gli ingredienti per fare la birra? È vero. Altre fuge. Vabbè, c'è l'oro. La Quarza Wars. Dov'è? Io c'ho le teleferiche. Ma qui dobbiamo trovare i pallini blu? Sì, dobbiamo trovare i muri con la robaccia blu... Aspetta, l'ho trovata qui, ragazzi. Eh, ho sbagliato. Come era per segnalare? Non mi ricordo più. La rotellina, prova non c'è la rotellina. Eh, tiri le granate. Eh... Provo ad andare... Ah, ma la granata mia era quella, allora. Mi vedete dove sono nella mappa, per caso? Eh, aspetta, eh. C'era il modo per vedere la mappa, comunque. Eh, no, l'ho aperta prima mentre... Tab? Ti ne premuto tab, vedi in 3D. Un tab, sì. Se ti ne premuto vedi tutta la mappa 3D. Ah, spusate. Sto cercando di salire in un modo un po' strano. Hai problemi in Twitch? Perché? Perché? Io non ho problemi, eh. Ah, vuoi cadere solo la dashboard. Io non ho problemi, non sto laggando, quindi non... Allora, aspetta la... Perché mi segna che abbiamo 100 spettatori. Anche a me lo segna. Anche a me lo segna. Magari ci abbiamo 100 spettatori. Ostia, mi sono arrivati i 300 dalla Roby, mi sembra poco... particolari. Eh, sono andati via tutti. Eh, come si è con la roba. Sì, no, è... Credo sia spaccato. Anche perché... Sono abbastanza sicuro che si è di più. Ma anche solo da come scrivete. Allora. Ma io non ci credo che sono di più. Secondo me, anzi, sono meno di 100. Finito le munizioni della pistola, io. Swarm, è una grande squadra, team. Uo, arrivano lo shamer, torna te alla base. Uo, arrivano lo shamer, torna te alla base. Ma io stavo salendo qua, ragazzi. Porca troia, no, lo shamer adesso. Voglio rimanere qua. Che musica è in te. E fa il starter dei prodigi, questa. Che caldo, però, ragazzi. Non sono tutti da me, è vero? Lo strontro asciutto, ho visto, pezzo di merda. Devo capire come chiamare le munizioni con... Però se posso anche amare, che... Non sia infamone. Allora, ragazzi, vediamo se mi ricordo. Là. In alto, lì. Aspetta. No, quelli sono grigi. Dove ero? Vedete là sopra? Eh, no. Non so dove indichi, perché sto scavando uno io. Mi facciamo esplodere, qui. Ok. Ho raccolto uno, arrivo, eh. No, vabbè, no. E dopo, appunto, ci sono mappe diverse. Questa qui, è una munizione. Che fatto, quei cristalli, così. No, ma i cristalli mi ricordo che c'era una roba del genere. Tipo per le uova, per robe così da trovare. Però la mappa, così, senza robottino, tutto intorno così... Non si sapeva. Dai, le coordinate con la bussola, dicono. Andiamo qui, aspetta. Ok, allora. Beh, bene. Pallini azzurri. E' caldo, ragazzi. Non è possibile. I funghi, quanti ne abbiamo? Otto su venti. Sì, ne ho trovati un po' io, qui. Li hai depositati? Sì, sì, sono già avali. Io ho finito quasi tutto. Ma si poteva richiamare, però. Sì, sì. Come si faccio Eva? Un altro fungo qui. No, ragazzi. Ma fuori c'è veramente un'afa che è peggio di dentro. Allora, era un grosso qua. Ok. Vediamo di riuscire a prendere qualche accuse. E io come mi difendo, no? In realtà, mi servono i polpi. Dobbiamo capire come cazzo... Cosa è caldo il tasto? Non vorrei che non si possa qua, ma... Sembra una... Cazzeria. Ah, qua vi puoi puntare. Prendo premuto X. Ah, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Aspettate. Lancio di rifornimenti. Come hai fatto? Non mi ricordo, adesso non ci ragiono. Eh, ma come? Era tipo 5 o 6. Era tipo 5 o 6. Come cazzo li hai lanciati, però? Qua, qua, sono qua di fiamma. Oh, c'ho a non starci sotto che va ammazza, eh. Ora, io sto cercando altri pippi azzurri per muter la mappa. Veramente complicata sta grotta. Come si fa? Andiamo a cercare. Come si fa, raga? Apri bene. Prendi qua. Perché non esce nessun prompt a me? E devi andare di fianco. Eh. Eh. Ma lo sta facendo? No. Ah, lo sta facendo, ok. Ah, ho tolto la caudibra, errore. È vero che se premi H te lo leva. Un cacchio. Allora, verso l'alto ho già preso tutto, in teoria. Eh, se hai bisogno di luci, dimmelo, eh. Beh, le luci ce ne ho un po' di mie. Eh, ma io ho quelle proprio da esploratore. Qua anche cacchio è. Ci sono dei buchi, la tripofobia c'è. Sì, Zara, hai bisogno. Ah, ok, ne ho trovati altri qua. Dove moro? Ah, lì. Lì, sopra. Multifuge. Ah, ce n'è uno anche laggiù, più avanti. Quello là. Fa vedere se ci arrivo con la teleterica. Sì. Carica, carica. Ok. Eh, tu fai questo, Marco. Ecco, vado a fare laggiù. Oh, guarda, ce n'è uno anche subito, poi qua. Qua la mia sinistra. Un piante anche da raccogliere laggiù. Ma deve uscire proprio un pippo? Sì, deve uscire un gemmone, te lo devi portare. No, no, mi sta portando via. Holdata. Eh. La faccio qua, l'ondata. Arriva l'astronave. Molto piano, molto piano. Per i ingredienti per la birra. Arrivo molto piano. Arrivo. Cazzo, ho preso le munizioni della pistola. Dipendete, mi torreste. Fc di sterco, dai. Che boccura. Voi avete pochissima vita, voi. Eh, ma io avevo il gemmone. Mi sono preso un sacco di bot. Eh, lo puoi toppare, il gemmone. Eh, lo so, ma volevo andarlo a deficitare i fubi. Ma no, ma che si compenetra uno dentro là. Ah, i miei fubi sono questi. Che è sta puzza. Ma il cazzo è che mi sta sparando? I glitchati non va, le bastardi. Quanti si glitchano, maledetti. Sì, certo, io ero in un posto di... Ho già quattro colpi, io. Ma porca. Sono già finiti tutti i colpi. Ok. Ho preso il gemmone qua. Mi serve vita. Vediamo se la trovo più in basso. Ammetto di... Mi sto abusando di questi... Eh, vado. Perché? L'altro, quello di fianco, Marco, l'hai preso? Quale? Lì dove eri tu l'hai preso, ce n'era un altro. No, ne ho preso solo uno, quello dove ero io. E poi ce ne dovrebbe essere un altro. Ma perché c'è gente qui in questa pastiglia? Vediamo. Piccato. Anche l'amido ci fa la birra buona, eh. Ci mancano ancora troppi funghi, però. I funghi, secondo me, sono... Secondari, comunque. Allora, dove cazzo era l'altro? Ma su, dove l'hai preso? E le ferie che ce n'è ancora? Sì. Grazie di sterco. Mi schiaccio col mio martello. Che è un piccone, sono cascato. È caduto, Marco. Cosa sto vedendo? Cosa sto vedendo? Cosa sto vedendo? C'è Federico che dice di non sparare a nessuno nell'estrazione a fine missione. Sì. Adesso, Marco... Credo che arriverò Marco, eh, adesso. Sì, ma intanto qua vedo cose, io vedo gente, insomma. Stanno consumando tutto il muro. A me dice che siamo 78. No, è ritornato. 641. A me lo credo. Ah, io mi è caduta la pistola. No, amici, non ce la faccio, mi sono lavato prima. Marco, un ventallante? No, sì, perché non è possibile. Ma cazzo, ma lì sopra, Marco? Io sto veramente male, ragazzi. Non è che figlio. Eh, ma devi far qualcosa, non puoi lamentarti per tutta estate. Scusami, eh. Eh, devo prendere il ventilatore da scrivania, quantomeno. Ma ti serve un condizionatore, altrimenti... Ho caduto anch'io. Voi siete casutti, ma perché? Bastardi. Eh, io da prima, non è sempre lì, sono. Eh, adesso devo arrivare, però. Piano piano sto arrivando in un posto magico. E per raggiungere te, in realtà... Spectomon. Eh? Ma cazzo ci sono... Ma cazzo c'hai messo lì? Perché sei qua? Eh, stavo andando a prendere il Nitra. Ah, giusto, bravo. Come... Adesso vedo giusto, vedo, vedo 642. Eh, Federico... Costa un sacco di soldi, io spero. Eh, però non puoi neanche star qua a quattro mesi a lamentarti. Eh, l'ho sempre fatto, Yezar, l'ho sempre fatto. Ma che costa 10 euro, 50 euro, 100 euro. Per favore, oh... Il verso un po' della mia borraccia. E voilà, adesso puoi tornare qui con noi e vado da Yezar. Poi io voglio... Il robottino, ma porca miseria. Non ho già più niente di... Di... Unizioni. In un caso anche io, mo' perché... E poi scusa, io ne vorrei proprio un condizionatore. Tipo, quello che ha la Robby non è... No, sì, come non è. No, quello... Lei se lo attacca dietro la schiena ed è un ventilatore, praticamente. No, è un condizionatore. Quello lì c'ha tutto il tubo che devi metterlo fuori casa. Eh, ma lei se lo mette qua come un... Come un ventilatore a sto punto... Per avere mezzo. Eh, ho capito, ma non ti butta l'aria fredda il ventilatore. Ma ancora lo sciame? Ma li mortacci tua? Ma io non ho più munizioni. Eh, fatela riprendere. Non sa che è finito, eh? No, no, ce n'era un altro coso. Eh, ma tanto avremo bisogno tutti. No, io non ho bisogno, Marco. Te l'ho sicuro. No, mi sa che è finito. Non ce n'è più, ragazzi. E zar, quanto hai riconcentrato tu? Eh? Quanto hai riconcentrato? Eh, stavo riconcentrato io. Eri veramente chissodurissimo su una cosa. Allora, sono un botto su di me, ma stanno venendo tutti da voi perché io sono morto. No, eh, mi vomita. Dobbiamo trovare l'ultimo acquark. Poi funghi, volo secondo me secondario. Non lo so. Sto meno dietro il Bruce. Anche perché non posso fare nient'altro. Morto. Non morire gli Ezzor. Spacco. Maledetti. Maledetti. Sono giù. Ma posso guardare le altre visuali? Sì. Perché ho polizziato il drone che può lanciare i razzi e tutto e abbiamo meccato la missione dove non c'è il drone. E bah, un culo. No, ma il ventilatore della scrivania infatti già mi dà un po' più di fresco almeno in faccia. No, io mi devo mettere il ventilatore qui di fianco che mi spara addosso. Cioè, scusami, per me, se ti metti il coso di fianco a te che ti fa aria, a sto punto devo pagare 300 euro per un ventilatore che mi fa un po' più di fresco. Eh, ma ti rinfresca a stanza comunque non è che te lo punti addosso perché... Ma dalla Roby faceva un caldo bestia comunque, anche se ce l'aveva. Ma la Roby non c'ha una porta. Però anche quello. Eh. C'è che il grosso qui. Oh, c'ho l'idra che non c'è più lo scudo. Bene. Ok, almeno ti sei ricaricato un po' lo scudo quello lì. Schioppa tanto quando ti si avvicina. Ma quelle torrette stanno facendo un cazzo di niente? Ah. Mi metto un paio di ghiaccioli qui, me li tengo così, bello fresco. Che cazzo? Ho finito i colpi. Eh, ma io l'ho fatto tutta la parte senza colpi. Puoi picconarli, eh? Sì, sì, l'ho fatto, però... Eh, dopo non ti muori perché comunque gli vai addosso. Ti vuol tasto destro comunque gli fai male. Anche loro ti fanno molto male se gli stai nel mezzo. Cazzo, sei andato proprio... Eh, vabbè, cazzo, cosa l'hai fatto? Eh, ma vedi, chiamavi le munizioni e... Riuscire a restare qualcuno, dobbiamo rifarla da capo. Sono un'altra. Io abbiamo perso un sacco di tempo all'inizio. Eh, beh, ci dobbiamo anche ritrovare quei tasti, eccetera. Ma che figura di merda, guarda. Marco è proprio il più pezzente, tra l'altro. Non c'è Damido, Damido ce l'ha data lo stesso, non ho capito. E' quella per la birra. Dobbiamo trovare gli ingredienti della birra per promuovere il bar. Era... semplice. Noce Damido, Damido 2. Infatti siamo nati a... Ti ho sbagliato, un paio di volte sono anche morto. Vediamo, perché allora, ce n'erano due di missioni per la... Adesso no, è cambiata proprio la zona. Per trovare le robe. C'ho le uova di qua. E questo di qua, che in teoria è uguale a quello che abbiamo fatto. Facciamo quest'altro per lo fare, vai. Guarda come va sul tuo tablet. Ma già che se vi salgo sopra è rimbalzo. Sì. Allora. C'è Marco. Veloce, veloce, che parte Eliezer. Hai dato a prendersi la birra. Scusa, va bene, fa fresco. Ma guarda te. Ma poi, mentre partiamo, bevi. Vabbè. Che mal di macchina. Tanto la che arriva giù. Marco, con il ventilatore dai cinesi dello kitty ho risolto e mi raffresca meglio di un dello onghi. Adesso non esageriamo, ragazzi. Ho detto che... Questa mi sembra un po' una cazzata, effettivamente. Magari, però... Però nel senso, io spendere 300 euro per avere un coso che mi butta aria a questo punto. Io avrei fatto proprio il condizionatore, ma qua non posso. Il ventilatore costa tre volte tanto. Ma a parte che qua non lo faccio perché sono in affitto, non vado a spendere... Quella cifra, sì. Io forse casa mia lo farei subito. Ma che bestie sono questi, oh! E fanno anche male. Che lavori, che lavori? Allora, qui ce l'abbiamo il... Come si attiva? Il bottino, con l'accinto io lo chiami. Eccolo, eccolo, che bello qua su. Io prendo un po' di materiali che comunque servono per... Ma il drone è che abbiamo potenzialmente... Io già di base ho un fisico che non regge il caldo e sono svantaggiato. In più, lo fa per davvero. Allora, il drone... No, qui con la C, chiamo lui. Ah, guardate, ci sono anche i fiori a poca. Io ho visti. Per prenderne 15. Mentre le uova, in teoria, le dovremmo vedere nella mappa. O sono tutti questi palini verdi? Non credo. Però lassù c'è un altro fiore. Da da prendere. Ho preso... Quello è un altro. Ok, le uova, quelle robe lì, le dovremmo vedere nella mappa, poi. Ok, sto prendendo un po' di fiori, io, eh. Sono una prestitregia. Questo cos'è, eh? Perché se li ho noto in una zona, ho sbagliato. Ho preso il fiore. Sono spaccato le tibie, che è da l'or. Col tab, comunque. Nella mappa 3D, le uova le vedete. Sono quelle verdi, no? Quelle arancioni, che sono? Eh, sì. Quanto viene sto gioco? Non mi ricordo. Una ventina di euro, mi ricordo io. Sì. Ovviamente è... Va bene, l'ho fatto in co-op. Sì, sicuramente in co-op è più... Ma qui ci sono dei nemici malissimi. Questa palla qua che rotola, che cazzo... Quel matchmaking c'è. Come la uccidiamo? Bestia. Ti ho dato una luce, ti ho tirato. Eh sì, cosa... Eh sì. Ma che schifo, ragazzi! Ma sono dentro il mostro! Bello, però. Almeno hanno messo cose nuove, no? Ma che schifezza, mi hai fatto dentro la bocca! Hanno messo cose nuove, una volta non c'era. No, no, giunto lo sanno. Guarda, là c'è un fiore. Ma guarda che lo siamo tranquillamente, se ti vanno a passare a riportarlo alla mattina. Ah, le uova, guarda, sono... Ci sono questi nidi di roba. Nero uno anche sopra, allora. Quella lì è una larva di loot. Amici, vi butto un po' di luce in giro. Tanto ho ciò che si scostiumano, eh. Ah, un fiore! Vado a prenderlo. Via. Ma visivamente le uova quale sono? Eh, sono delle robe da prendere, come le cose di prima. Guarda il tab. Di sotto. Eccolo, sono giallo. Eh, credo stia arrivando la situazione, eh. La protettrice. Eh, credo se qualcuno si sia ingazzato. Allora, C per chiamare il robottino. Tra l'altro, il drone dove cazzo ce l'abbiamo? Perché il drone lo puoi chiamare per far prendere roba. È vero, è vero, mi ricordo. Ora. Noi dobbiamo prendere i fiori e le uova. Assù c'è un uovo. Fiori ne ho preso... Io in mano ne ho due, ancora, eh. Adesso li porto. Cos'è quella cosa bella? Puoi chiamarlo, puoi chiamarlo il... E come si fa? La C. Casco di nuovo. E allora sono stupido. Ma, dai. Un altro fiore. Beh, almeno l'ho trovato. Dai, cadendo. Ok, l'altro uovo. Stanno sparando da... Eeeh... Beh, è un enorme contrattempo in arrivo da voi. Squadra, preparatevi. Ok. Raduniamoci da qualche parte. Sì. Cazzo, là c'è un fiore. Aspetta. Dove? Attenzione, torrette. Dove siete? Eh, io sono sotto. Ma che vieni qua? Merda. Eh, ma casco di nuovo. Eh, infatti. Eh, il rampino non mi fa affare lì. Cioè, il rampino mi porta in un punto, ma poi mi attacco, cioè. Ok, ma ora ora. Fermati, fermati. Eh, aspetta, ma c'è Marco là sotto. Io ho fatto la strada. Eh, ma è morto. Ah. Vado a tirar su. Ah, ma perché il rampino, cioè, non è che, cioè, non so dove andare, perché il casco per terra. Fermi su qua. Merda. Ma non si sale? Qui, qui. Adesso sì. No, qui siete voi. Ok. Allora, qua su, tra l'altro, c'è un fiore. Quello verde, quello verde. Beh, lo scosto dietro, to, ciappa lì. Ok. Arriva le medusine. Un fiore! Vedo un fio... Donde è quasi finito? No, mi hanno spinto di sotto. Che cacchio. Che cacchio di cervelli. Ehm, le uova le piazzero nero o tu le uova che i peli? Ehm, no, mi pare. Mi prenderai. Ad esempio, uso il fiore qua sopra. Fai vedere se c'è già qualche uovo qua sopra. Oh, però c'è qualcosa qua. Metto un po' di luce. Tra l'altro, nessuno di... Rai, c'è quello con i triggelloni, è vero? Sì. Eh, mi sa di sicuro. Ah, miseria. Ma niente. Non servo. Che ore ne abbiamo? Ah, io ne devo consegnare tre. Anche io. Come? Tutti, tutti, due, tre? Ah, ce ne manca uno. Ma questo è un uovo? L'ho rotto? No, non era un uovo. Ma li vedi nella mappa... Eh, lo so, è che non l'ho averlo. Allora... Ma c'è un cervellone qua, ma che cacchio di mostro l'ho messa? Eh, non li faccio nulla. Ah, no, che è morto. Ah, ecco. Ma questo è un ovetto. Questo giallo. Se lo puoi raccogliere, sì. Io lo posso raccogliere. Eh... Lo ho dentro il robottismo, no? Eh, l'ho detto che hanno aggiunto robe. Sì, qua sotto, qua sotto c'è roba. Ok, ho trovato un altro uovo. Che cazzo, ho trovato forse l'ultimo fiore? No, ce ne sono ancora... Ne abbiamo undici. Eh, ma io non li ho depositati. Ok, allora sì, ma fuori ne abbiamo... Eh, ma come la pizzeria ci trova un po' di... Eh, qua c'è un po' di nitra. Ho trovato ancora un altro di fiore. È il gioco peggiore perché io non mi so orientare e vado continuamente in posti dove mi ammazzo. Ma si chiama... Ah, no, Molly. È il... Che cazzo è? Quello è quello grosso. Questo è grosso. No, sono cascato. Eh, vedi. Dietro di me, casco. Io non mi regolo proprio qua. E gli sfondo l'armatura, gli sfondo con sta pistola. È proprio da arrivare, Marco. No, ma intanto, cioè, proprio non mi regolo con la mappa. Già mi perdo. Il più è buio. Ah, ah, ah. Ma mi rovesci... No, mi ha radazionato. Sì, anche prima sono caduto qua. Guarda, c'è la cura. Ah, guarda quanto ha cura. Come facciamo a vederci noi? Questa è Nitra, non è cura. Con... Ah, no, è vero. Come era la cura, scusi? Com'era quello arancione splendente. Con X? Sì, se ti ha premuto la X, vedi tutto. Black Saint, grazie Black. Grazie dell'orzo bimbo. Grazie mille Black. Grazie Black. Grazie, Black. Quanto fa? Eh, la mappa 3D è peggio, ma per... Esatto, per me è ancora peggio. Cioè, è bella, ma è peggio per chi non si sa regolare. Mi perdo il doppio, mi perdo. Ma credo solo 3 uova. Allora, guardaramo la mappa. 3 uova sono... Fermati. Ah, a destra qua dove sono io? Credo sia quella più sopra. Ok, l'abitivo secondario, ho fatto. Ok, quindi è secondario quello. Raccogli uova. Andiamo un po'. Eh, dove siamo noi? Qui ci arriva uno suormone alla fine. Ah, sì. C'è un ovetto? Uno sotto ce n'è. Sotto sotto. Same, same, same. Rilificharci. Porca di una puttana adesso che c'ho l'uovo nelle mani. Dove cacchio sarò finito? Arrivò. Bella la musica. Fa un sacco che non c'è tra una fava. Da qui. E dove cazzo sono? Scusatemi, eh. Un trivellone qua. Facciamo la svelta, ma... Io tra un po', dopo la prossima ondata, chiamerei magari dei fornimenti. Sì. Ah, è grosso. Ma la palla non ti fa male? Grosso. Ti spari. Ma dove sei andato? Arriva, arriva, arriva. Sbagli alle punte. Ok, dai. Ma sono precipitato giù. Eh, purtroppo. Vabbè, stai lì. Tu stai lì che ci sono le torrette. Cerco di picconare attraverso la roccia. Eccomi. Aspetta, mi prendo... Le uova. Bestia! Ho buttata io, eh, quella granata. Aspetta qui. Mi rallento. Ok, andato. No, no, ho le raglie attive addosso. Cos'è sta roba? Ho trovato un altro fiore io. No, anch'io ne avevo trovati tra i un fiore, i quanti li salivano. Allora, butto giù questo uovo. Eh, che ho butto giù anche l'altro. Cos'è che mi ha spinto? Ma il buco del bus. È morto? No, ancora no. Beh, però è andato... Sì, è morto. Tutti i prodigi, sì. Eh, ho finito le munizioni per le... Ma non è veramente dei prodigi, ma sa un 3K? Ok, chiamo... Molly qua. Eh no, Molly. Dov'è il grosso? Lassù. Ok, è morto. Che sparaflesiosità, che vede. Ok, è morto. Ok, richiamiamole munizio, va. Eh, aspetta, eh. Fatemi depositare qui le uova. Dov'è il coso? Eh, ce l'ho io. Ok, manca l'ultimo uovo che è verso il basso. È verso il basso, sì. Eh, sì, però chiamiamole munizio. Eh, aspetta, chiamiamole più avanti, non è meglio. Eh, io ho sempre più avanti. Io ho solo il pompa, eh, effettivamente. Eh, allora, chiamatele. Io sono ancora a posto. Le cinque, comunque, ufficiale. No, questi ragni non mi danno fastidio, ma sono gumbosi. Ma sì, non sono neanche proprio ragni. Ok. Ho trovato l'ultimo uovo, io. Dobbiamo andare proprio giù, giù, qua. Eh, aspetta, fatemi chiamare intanto Robottino. Eh, che si incazzerà, eh, quindi. Se proviamo a scendere di qua, intanto. Eccola. E poi, dove sarà il piano di extraction? Allora, io posso risalire da di qua, poi. Amici, vado a prendere l'uovo, forse ho capito la strada, è incredibile. Ma se l'abbiamo l'uovo? L'ultimo? L'ho preso, l'ho preso. Ah, sei qua sotto? Ok, Moro. Vieni qua, allora ti dico come tornare su. Ok, adesso dobbiamo... No, ma, in realtà, continuando la strada di qua, torno su. E in caso c'è la strada di qua. Bisogna premere il tasto di estrazione. E in dopo, riuniamoci. Riuniamoci un attimo. Ah, andiamo, no, l'uscita, eccola là. No, l'uscita non ve la segna. A me segna una... Il razzo è dove il robottino. Ok, siamo qui. Io sono da robottino. Eh no, vieni, tornare su. No, no, vieni, ho chiamato il robottino, vieni su qua. Ma fa la mia strada, va bene. Seguilo, così non ti perdi. Esatto. Forse. Mi riprendo delle munizioni anche io. Prego, prego. Solo chiamo qua il robottino. Un po' più di luce, dai. La metto. Arriva. Di domani mattina c'è Paper Please. Sì. Domani sera facciamo FIFA. Poi c'è la bella IVA e la... C'è la VD Laser e poi c'è la confezione. La tozzoletta. Facciamo poi... No, premete il tasto. Ma in realtà... No. Perché? Vogliamo premerlo. Va bene, va bene. Un mostro, l'ho visto. Capsula di sbarco in arrivo. Adesso dobbiamo seguire il robottino. Capsula di sbarco. È qua sopra. Allora, io metto la teleferica qua. Ciao, indio. Grazie, ale. Ciao, bello. Aspetta, a sto punto... Prendo l'ultimo carico di munizioni, così mi ricarico completo. Eh sì. Cosa del cacchio l'ho messo? Lì c'è dell'oro. Loro, sto arrivando. Devo usare il rampino. Sono le meduse rosa. Uli. Sì. Ok. Ma che vera... La siamo... Bolognata bene qua. Cos'è successo? Quello lì è andato tutto in merda. Eh ma c'era l'andata, lì stai. Eh ma in realtà... No, mi sa che possiamo infilarci dentro. Il lavoro è qui. Siamo tutti qui? Andiamo. Smerdoni. Dai, mi sono incastrato. Cacca miseria. Ho usato la tua testa per andar via io. Tutto bene, Marco. Eh, c'è qualcosa... La nitra, la nitra. Che non serve a niente perché serve solo per le munizioni in realtà. Vediamo se c'è qualcosa giusto qui. Dei ragnetti. Altra nitra. Questo cos'è? Non credo sia niente. Con la X vedo cos'è. Stanno arrivando le bestie. Roccia comune. Stanno arrivare. Il rosso bo. Eh, credo possiamo andare. Andiamo. Stanno sparati dentro. Stanno sparati dentro la... Stanno sparati. No, purtroppo non si fa. Stanno sparati. Devo usare Giorgio? Tu sei una bellezza, Inghie. Ti tirerei un bel limone. Ma lo devi prendere. Sono le zipline di Pathfinder, un po' sì. Guarda che bad S che siamo. Guarda, non siamo morti in sto giro. Ci c'è lì, ci c'è là. E ci c'è anche un po' qui. Fatto quello meno rischioso comunque, ragazzi. Sono stato abbastanza bravo. Perché siamo delle pippe. Allora. Noce d'amido. Bismore, umanite. Noce d'amido, quattro. 13 di umanite e 42 di bismore. Perché questi sono i materiali che anche servono per potenziarci anche. Sì, Davide. L'unica è l'HUD perché io mi perdo veramente. C'è l'HUD in generale la map. L'HUD, tra l'altro. Opzioni. Sono a livello 13. No, non è vero. Fugia. Mirino, visibile, spento. Puoi spegnere un sacco di robe. Un sacco di robe. Ma che si battenziava al cosa della birra? Ho una mimetica ora. Eh, se allora bisogna andare dal... Dal tizio qui. E dirgli come è? E c'è... Migliora la licenza per le birre sopra, in alto. E ci vuoi... Abbiamo 15... Ah, ok. Ma questo è tutto il nostro materiale? Noce d'amido... Ah no, è il menù questo, niente. Noce d'amido ce ne ho 16. Cono di lievito ce ne ho 6. Ah, ma si può parlare una alla volta qui. Andiamoci una birra, dai. Non è tor... Siamo un po' tutti torbi ormai, in effetti. Ma ti sei sfondata in faccia, quella roba. Ah, abbiamo abbi la base, questo. Eh sì, non ce l'abbiamo potenziato ancora. Parite. E' stato i piccoli scherzi a Liezer che cercava di far canestro e gli risettavo tutto. Ah, ecco perché non facevo tutto. E infatti ti vedevo in interdetto, diceva, ma scusami. Oh, il controllo missione ci sta rompendo le balle. Fammi ballare, per favore. Oh, guarda che danza... Non sei giusta. Ho prego la birra. Faccio caccare io, non solo facendo canestro. Esatto, quando uno si fa la tozza e mi continua a metterci lo shampoo sulla testa. Sì. Voglio bere una bella birra fresca, almeno nei giochi fatemi essere umbriacone. Oh, che miseria. Questa è la difesa. Ehi, ehi, che Fortnite. Non posso bere io. Ma lo sto sentendo dietro dall'altro. Eccomi. Ma no, la birra era fresca. Non ci voglia di birra però adesso. Anch'io, Liezer. E adesso mi vado a fare un hamburger grosso così. E una birra. Infatti ho la birra Messina. La birra della Messina. Ah, so selezionare... E qualcuno ha mangiato il cinese, voglio più quello che la birra. Non credo vada fatto così questo ballo. Pogando con... Non credo proprio... Sul tavolo. Non credo. Ma non dice mai... Marco, non sarei mica un elfo. Ebbè, io sono un elfo, effettivamente. Che schesso. Cioè, se ci pensi... Se ci pensi, io sono un elfo. Mi piace tirare con l'arco. Non bevo... Manca a me bisogna tirare con l'arco, ma non sono mai... Comunque... Cosa dite? Io lo rifare ancora una mattina stima prossima. In chat cosa... Aspettiamo ancora una settimana per Grinello, direi. Con una pausetta dalle sere. Possiamo farlo ogni tanto, così... Vi sta questo, sotto... Secondo me questo qui è il farmone bestia. Io voglio diventare il nano con le mani... Più che altro c'è da promuovere poi il nano. Perché tipo le robe qua, immersione profonda, forgia... Queste qui devi promuovere il nano per poterci andare. Eh ma adesso salirà di livello poi. Sì, più o meno non so neanche dove, come e perché. Ma qua sotto? Forgia. Fortnet. Terminale è bloccato, devi promuovere almeno personale. Eh sì. E poi come si esce? Ne hanno aggiunto di roba comunque un bel po'. Eh sì, ti ho detto. Sì, c'è roba interessante. Vabbè. Lo rivedrete settimana prossima. Pele, figlio di Odino. Più che altro, magari adesso che ci abbiamo un attimo rigiocato tutti insieme così. E abbiamo capito come fare le cose ben bene. Ma so meno. Funziona, ci ricordiamo i tasti adesso. Esatto, magari settimana prossima. I post-it senza niente. Ovviamente la mattina, questa qua va bene la mattina. La sera... Ne ha fatto stasera così per... Appunto, era tipo una botta e via. Per vedere se ne valeva la pena. Ah ma tu ci qua, cosa serve? Ne abbiamo approfittato. Proprio sul tabellone, due di cose. Oh, ma guarda che bella schiuma. Spilla la birra, porca miseria. Ma c'è? La realtà esiste. Ma cosa che bella schiuma, Marco? La realtà è un bottino del genere più o meno esiste, no? Perché? Ma tu non sei un vero birraiolo. Perché c'entra? Non posso prestare la schiuma. Aspetta, scusa. Slayer Stout ha due di quelli che ce ne abbiamo. Ma aspetta, ma c'è, guarda, ma non abbiamo niente, non abbiamo. Vedi, c'è la birra speciale di oggi. Mi bevo anche questa. Possa vittoriosa. Ah, aspetta. Pesta, pesta. Pesta, vedi? Non voglio un altro. Poi ci sono anche le birra craftabili. Un grado di roba ha messo. Io le voglio le birra craftabili. Marco, non vedo più un cazzo, sono ubriaco. Non abbiamo più, non abbiamo nulla sbloccato. La sala commemorativa, Marco, vedi su. Vabbè, credo sia agli achievement, praticamente. Magari è modificato, aspetta. Fammi vedere, andiamo. Era proprio una volta. No, però c'è la sensore. No, vedi su. Aspetta, eh. Onoriamo i caduti. Senti di libero di fare un giro e rendi i tuoi omaggi. Eh, ma credo sia agli achievement, praticamente, no? Credo che sì, però è bello. Esteticamente molto figa. Eh, madonna. Ah, promuovi qua. Dov'è? Qua sopra, nella sala del... Arrivo. Eh, però non... Non so come si fa. Mi dice di selezionare uno, ma... Ti avevo promesso. Grazie, grizzly. Seleziono artigliere, ma non funziona perché non sarà di livello abbastanza. Ma qual è il livello per... Grazie, grizzly. Non me è 15. Ma dove promuovi? Io non ce l'ho promuovo. No, vedi, sblocca... Qui sblocca le statue. Ah, promozioni. Perché c'era scritto nello schermo. Ah, perché questa... Ah, ecco, questa... Io vedo la mia statua. Non so voi cosa vedete. No, io vedo qua la mia statua. Non so se sono io, in realtà. Potrei? Io la vedo qua con la torretta, qui nel mio personaggio. Va bene. Ingegnere livello 10. Beh, sarà quello. Va bene. Dai, ragazzi. Eh, a livello 25, li mortacci. Ah, il 25, vabbè. Comunque, eh... Non si corre nella sala commemorativa. Oh, c'è scritto qua. Vi ricordiamo. Domani mattina... Hunt. Giusto? Sì, domani mattina... No. No, no. No, no. No, no. Domani mattina Peppers, please. Scusate. Esattamente. Peppers, please. Domani pomeriggio, però... Alle 6 c'è Cyberpunk, cazzo. Sì, c'è... Ma io ho un GeForce Experience Drive. Io non ci dovevo essere domani pomeriggio, tra l'altro, di mortacci. Tecnicamente neanche io, però vabbè. Adesso vedrò. Porca paletta, porca. Vabbè, comunque c'è Cyberpunk. Eh, vabbè, in caso la faccio io. Domani pomeriggio. Eh, ma mi tira il culo, Cyberpunk. Lo voglio vedere io. Io la faccio, non è problema. Eh. Sì, ci sono io con la live prima, e poi c'è Cyberpunk, e poi la sera FIFA. E poi la sera di... FIFA. FIFA, domani sera FIFA, che ieri purtroppo è stato un disguido. Vi lasciamo dal gattone adesso, dai. Esatto, andiamo da gatto e gli diciamo gatto. Nani? Detteli così. Ciao. Vabbè. Ciao. A domani. Ciao. A domani. Ciao, ciao. Ciao, sì, vabbè, ciao.